Salve a tutti, sono Mr. Anduendo, siamo qua su Fehar, per Seus Mandate. L'Explosion è rilasciato una corrente di attività paranormale che spaventa tutta l'area e consuma il vuoto. La Resergenza di Cien è stato ucciso in azione. E estrema cautela. Devo farcelo arrivare fino alla superficie. Se devi capire se qualcuno del Fehar o della Delta sono sopravvissuti, Gabe Morrison del Cazzo. No, Gavin, non Gabe. Figli di puttana. Gli cerca di avere di Cium Lee. Eh sì, Cium Lee. Di Mr. Lee che è appena morto. Ciao. Ah no, non è ciù lì. Non so se chi sia. Però fa niente. Risparmiamo la torcia dove possiamo. Ah, questo è un magazzino. Perfetto. Cosa? Dai, crepa! Ce n'è un'altra? Allora. Dove sei? No, mi sembrava di averlo ucciso. Vabbè. Andiamo avanti. Porte bloccate, serrate. Già, beh, se con la porta al dia dove dobbiamo andare. Vediamo un po'. Figlio di una Baldrach. C'è altro. Oddio. Adesso si entra in una vera atmosfera fair. Dove ti cacchi veramente sotto. Per tutto. E' come se fosse uscito qualcosa. Eh no, eh. Noi iniziamo a fare i scherzi. Topo di merda che fai casino. Lì c'è un barile. Ah, c'è una porta sul retro. Siamo utenti per terra che non ci siano quelle ombre del cazzo. Eccolo. Pocca troia. L'ho appena detto. Sto prendendo un... Andiamo avanti. Andiamo avanti. Non me lo ricordo. Sennò che l'ho fatto una volta e basta. Non mi ricordo niente. Lì però ci sono delle belle munizioni. Ma vaffanculo. Ok. Andiamo avanti. Ok. Guardate il checkpoint. Porta. Non so cosa sto girando. Lol. Boom. Ok. Procediamo per questa porta. Ho tempo. Oddio. Cazzo. Dai. È lui che devo cercare io. Non posso ucciderlo. Vediamo. Non c'è niente comunque. Fanculo. Adesso le doverò dell'acqua a scele. What? Saltare in acqua? Solo io posso. Ha ha ha. Eh. Asce sce 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 sce. La 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 la. Ho ho ho. No. Abbiamo questo. Non so se c'è niente. C'è il laserone. Andiamo avanti. Il checkpoint. We've got Morrison. Abbiamo Morrison. Merda. No. Non deve scappare. Ho. Stealth level master. Trepa. Oh. Oh. dai dai, oh, hai capito adesso che sei in, sei in, in gravi guai, la, vediamo un po', no, prima di tutto quest'arma qua mi interessa, per cui prendiamola, casomai stiamo senza fucile a pompa, chi se ne frega, tanto che questa è buona, quel fucile a pompa con questi qua non funziona molto bene, da quello che ho visto, boom, adesso voi mi avete toccato però, eh, oh, mi sparo andò dietro, figli di buttana, se soltanto ti vedessi però, tac, 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 oddio, stavo rischiando di crepare io, edicola, scusi, ce l'hanno wanga? no, oddio, ho, no, è non far humore sto cazzo di fucile, noob e tu? ahi, ahi, i replicanti sono fermi, mi sa che Fettel c'ha qualcosa che non va, non ho idea, però, va bene, se io non capisco, dovrebbe essere comunque durante lo stesso del primo fair, per cui dovrebbe essere morto tipo Fettel in questo periodo di tempo, e i replicanti sono tutti, eh, le subway, sono, grazie a Dio, credo che Chen non lo è, eh, l'esplosione si è andato in linea, non ho mai sentito molto spero per l'altra squadra, e qui posso farlo che erano in un'area di armacamp quando si è andato in un'area di armacamp quando si è andato in un'area di armacamp quando si è andato in un'area di armacamp. va bene, e dovevo interrogarlo personalmente, quel figlio di buttana, andè, sta già correndo, sembra che va a due all'ora, ehi mister, ti sei salvato a pelo, eh, no, 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 ehi, tanto, uccidiamo civili, chi se ne frega, e, e, ehi, ah, io ricordo che non ce l'ho arrivato, ah, buco, il video di oggi vi c'è qua, se non vi piace, commentate, iscrivetevi al prossimo video, ciao! Ciao!